Seminari, tavole rotonde, spettacoli teatrali e concerti animeranno il campus universitario della D'Annunzio di Chieti nell'ambito della Notte Europea dei Ricercatori, che quest'anno tornerà venerdì 30 settembre a partire dalle ore 15. Il sapere che include il tema scelto per questa edizione, presentata in conferenza stampa presso l'Aula Consiliare del Rettorato alla presenza del Rettore Sargio Caputi, della Prorettrice Vicaria Augusta Consorti, del Direttore Generale della D'Annunzio Giovanni Cucullo e del Professor Arcangelo Merla, delegato del Rettore alla Terza Missione di Ateneo e responsabile del gruppo organizzativo della manifestazione. Il tema che abbiamo scelto quest'anno è appunto quello dell'inclusione, pensiamo che ci sia bisogno di ragionare sull'inclusione in tutte le sue forme, dalla forma sociale alla forma economica alla realtà associativa, perché questo è uno dei ruoli dell'Università, fare formazione trasversale su temi che impattano nella quotidianità. Abbiamo riproposto lo stesso formato dello scorso anno, quindi il nostro campus sarà completamente aperto alla fruizione del pubblico, tutti i nostri laboratori, le nostre aule presenteranno la nostra attività di ricerca e l'attività scientifica e divulgativa, nel solito modo attraverso giochi, attraverso seminari, ovviamente di un livello divulgativo e anche attraverso momenti di intrattenimento sempre centrati sul tema dell'inclusione. Tra le novità di quest'anno c'è il passaporto del ricercatore, che sarà consegnato ai ragazzi che faranno visita al campus universitario e che al termine dell'evento servirà al rilascio del diploma di giovane ricercatore. Per agevolare gli spostamenti sono stati predisposti un servizio gratuito di navetta da Pescara e parcheggi di scambio con la Camera di Commercio. Soddisfatto anche il rettore Sargio Caputi, che per quest'anno prevede un incremento di iscrizioni alla luce dei rincari energetici, che costringeranno molte famiglie a contenere le spese e a scegliere l'offerta formativa della D'Annunzio con prezzi calmierati. Questo è il secondo ritorno degli studenti nel nostro bellissimo campus di Chieti e spero che accoglieremo bene le famiglie che vorranno venire a visitare le nostre strutture. naturalmente in un momento di ripresa complicato, ma che la nostra Università sta affrontando bene. Comunque questa sarà una giornata goliardica, sicuramente ricca di contenuti, perché faremo vedere quello che la nostra Università fa nel campo della ricerca e della didattica. A chiudere la manifestazione sarà il concerto di Enzo Avitabile.